Un lungo corteo silenzioso in via martire delle foibe, le bandiere tricolori in vista per non dimenticare, hanno sfilato in circa 200 nella giornata del ricordo e memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo delle popolazioni Giuliano Dalmate. La manifestazione organizzata dal Comitato 10 febbraio ha voluto onorare, ad oltre 70 anni dalla fine della guerra, le morti perpetrate dalla milizia titina, 15.000 le vittime e 350.000 gli italiani costretti ad abbandonare tutto. A 16 anni, dall'istituzione della giornata del ricordo, rimane l'impegno a far conoscere la storia di molti nostri connazionali che quell'esodo e quelle morti le vissero.